Ma? Perché sei tornato normale? Voglio andare in da qui! Niente a fare! È solo che vorrei spiegarvi come funziona il meccanismo del Super Saiyan in modo semplice che ha! Oh, Super... Super Saiyan! Grazie, non disturbarti! Se vuoi la verità non me lo fa a niente! È interessante! Guarda bene! Come vedi ora sono nel mio staffono! Adesso sono un Super Saiyan! Mentre qui... Guardalo bene! Questo è il guerriero Super Saiyan che ha oltrepassato il Libby! E si chiama Super Saiyan di secondo me! Ehi! Un mozzo di trasformazione! Io so! E' una differenza! E adesso! Cosa un Super Saiyan che supera ulteriormente il limite non può essere? Sarebbe di tezzo il livello! Secondo me Goku sta per fatto! E' ovvio! Come può andare ancora uno? Guarda! No, non posso più! Supererò il limite del Super Saiyan secondo livello! Ehi! 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 No! Noi, I'm right, I'm nothing, it's fine I, I'm right I'm right I'm right I'm right I'm right I'm right I'm wrong I'm wrong Noooooooooooooooooo Come on I can't do what he says This is most recent Suffolkation, no breathing Don't give a fuck, give a cup of your pain Dip me raw or dip me tight Ever took my name tonight Chances on daycomite Mutilation out of sight And I've got some places on my side Cause I'm losing my sight Losing my mind Non te las piutesi! E questo è il Super Saiyan di Terceme. Mi dispiace avermi fatto aspettare. Sapete anch'io, mi sono ancora brutto